Oggi, 3 febbraio 2022, guardate, osservate questo quadro, ma guardatelo bene, ma ho voluto fare la metamorfosi in quattro fasi volutive del quadro, della mia interpretazione, in quanto vedete il viso di fianco, l'essere umano preso come individuo, vi voglio ascoltare anche la musica, meglio di no, così ho più attenzione sulle parole, sulle parole. Ok, guardate questo viso laterale, il viso mano cambia espressione dalla mattina a mezzogiorno pomeriggio sera, ebbene, dove una rielaborazione di questo quadro di una settimana è finita oggi, Il 3 febbraio 2022, in quanto ho voluto dare uno scopo ben preciso alla visione ottica, di paragonare la sembianza naturalistica ad un'espressione individuale, dove ho detto prima che l'espressione cambia in base all'orario del giorno di un individuo, per questo che ho voluto abbinare la foto di un mio quadro accanto a questo viale che si trova alla cascina paradiso, a Muggiano, ebbene, non ho ancora finito, il quadro dopo una settimana di tesi, di correlazione, è terminato oggi, ma in più vi dirò che con questo quadro è l'inizio dei primi quattro quadri, come il quadro di Munch, che lo fece in quattro fasi, ebbene, questo è il giorno, l'espressione naturalistica del giorno, poi dirò di più, il quadro lo farò in una luce notturna, con il cielo di Van Gogh, quel viale alberato, e spero di farcela, è la seconda espressione evolutiva, che può darmi significato al mio senso artistico, in quanto ci sono altre due fasi evolutive del quadro. Detto ciò, il quadro artistico, l'opera si determina in quattro quadri, poi da scegliere quale potrebbe essere migliore come tesi finale, ma l'importante è che io abbia delle sensazioni emotive, dove il percorrere di quel sentiero lì nasce dall'emozione evolutiva anche degli alberi in base alle quattro stagioni, e per di più i cippi rimangono costanti, come un senso di eternità, da determinare il terreno, il territorio comunale, sì, il comune senso all'arte in base e percepita in una relazione di un tempo duraturo, non moderno, non attuale, ma l'arte deve essere presente in un periodo lungo e eterno, perché manifestare ciò che è bello è sentire come un senso di eternità. Aldo